Salve a tutti e ben ritrovati per questo nuovo video, il mondo degli scacchi sta impazzendo completamente. Notizia dell'ultima ora, è stato buttato fuori un grande maestro dal campionato statunitense 2024. E a quanto pare nel luogo del torneo è addirittura dovuta intervenire la polizia. Dal club di scacchi San Luis viene scritto Dichiarazione ufficiale del San Luis Chess Club in merito all'espulsione del grande maestro Christopher Yu dal campionato di scacchi statunitense 2024. Molto grave. Official Statement Alla fine della partita del 16 ottobre il grande maestro Christopher Yu a cartoccia strappa il suo formulario e esce fuori dalla sala del torneo. E a quel punto colpisce una video reporter da dietro. Questo è quello che viene affermato. Il club di San Luis ovviamente provvede subito ad assistere la video reporter e chiama la polizia che interviene. Poi dopo l'arbitro decide di espellere Christopher Yu dal torneo per aver violato la condotta e le politiche di gioco della federazione scacchistica statunitense. Questa decisione è pienamente supportata dal San Luis Chess Club il quale ha deciso di bannare Christopher Yu dal club. Ora i risultati dal round 1 al round 5 verranno annullati mentre chi dovrà giocare contro Yu o chi avrebbe dovuto giocare prenderà un giorno di pausa e otterrà un punto. E alla fine vi è la nota prendiamo molto seriamente la condotta dei giocatori e non tolleriamo nessuna violazione per i nostri standard. Mamma mia ragazzi cioè non ci posso credere. Cerchiamo però di vederci un pochino meglio cosa cavolo è successo. Prima di iniziare io vi ricordo di mettere mi piace e di iscrivervi al canale. Grazie a tutti. Iniziamo. Ok eccoci qui siamo al quinto round si affrontano Christopher Yu e Fabiano Caruana vediamo un pochino cosa succede. Stanno semplicemente giocando. Christopher Yu ha una posizione disperata ovviamente la partita è completamente persa. però non sta abbandonando. Eccolo qui che abbandona. Vedo che Borbotta un po' dice qualcosa. Caruana non gli sta dicendo niente. Borbotta non so se stia parlando con qualcuno. Caruana prova a dirgli qualcosa. Oh. Attenzione attenzione questa va rivista. Oh. No ragazzi non ci posso credere. Guardate che occhiata che gli tira Caruana. Invece l'arbitro lo incita a calmarsi. Ora la cosa che non mi piace è che l'arbitro poi lo va a toccare. Vedete? Gli mette la mano sulla spalla. Lui sembra calmarsi. Prende il formulario e lo mette in tasca. E si alza e se ne va via. Queste sono tutte le informazioni che abbiamo. In pratica ho detto tante volte. Perdere a scacchi fa male. Cos'è successo qui? Christopher U stava parlando con qualcuno oppure stava parlando con se stesso? Non ho capito questo. È da verificare. Perché non si vede nel video. Caruana prova a dirgli qualcosa. Magari voleva rivedere la partita o qualcosa. Però lui reagisce malissimo. Appena Caruana gli parla prende, strappa il formulario, lo accartoccia. Intervene l'arbitro. Intima di calmarsi. E lo tocca sulla spalla. Dopo questa vicenda il giocatore esce dalla sala di gioco. C'è una video reporter. Non so se lei lo insegue. Non so. Però a quanto pare lui colpisce da dietro la video reporter. Viene chiamata la polizia. E poi dopo non sappiamo più niente. Sappiamo solo che è stato bannato dal torneo. Bannato dal club San Luiz's Club. Probabilmente verrà bannato dalla federazione scacchistica statunitense. Probabilmente anche dalla FIDE. Stiamo parlando di un ragazzo che dovrebbe compiere 18 anni a breve. Ed è un giocatore fortissimo. Veramente assurdo. Ma andiamo anche a vedere la partita tra Yu e Caruana per capire perché mai si sarebbe dovuto comportare in questo modo. Allora questa è la partita. Vi dico già che Yu aveva vantaggio. Yu gioca con i pezzi bianchi. Apre con cavallo F3. Caruana risponde con C5. Segue C4. Pedone B6. Cavallo in C3. Un'apertura inglese simmetrica. Un'apertura normale. Caruana sviluppa l'alfiere in B7. Yu occupa il centro con E4. Segue E6. Pedone D4. Pedone per D4. Cavallo per D4. Rientriamo in una formazione Maroxi. Caruana sviluppa il cavallo in F6. Yu gioca alfiere D3. Segue cavallo C6. Cavallo per C6. Pedone per C6. Pedone E5. Secondo il motore arriva il primo errore da parte del bianco. Tuttavia la posizione rimane pari. 0.2 non è niente. Cavallo D7 per Caruana. Yu difende il pedone in E5 con l'alfiere. Segue a questo punto. Donna C7. Donna E2 per difendere il pedone in E5. E Caruana arrocca lungo. Yu decide di ritirare l'alfiere in G3. Caruana gioca la mossa migliore. H5 va a caccia dell'alfiere. E Yu sposta l'alfiere in H4. Attaccando così anche la torre. Caruana qui decide di fare una cosa folle. Decide di sacrificare direttamente la qualità. Magari ha compenso. Ed effettivamente un po' di compenso ce l'ha. Però il bianco inizia a stare un po' meglio. Yu ovviamente cattura la torre. Caruana cattura in D3. Segue donna per cavallo. Donna per alfiere. E Yu decide di arroccare di materiale al sicuro. In questa posizione sta anche dominando la colonna D. Tuttavia deve lottare contro la coppia degli alfieri. È vero che il bianco ha più chance. Perché il bianco ha la qualità in più. Ovvero torre per alfiere. Tuttavia la partita è da giocare. Non è che il bianco qui ha già vinto. Il bianco ha 0,95 più 1 di vantaggio. È qualcosa ma non ha vinto. Caruana continua a giocare. Giustamente gioca donna C7. Yu sposta il re in B1. Segue alfiere E7. Torre 1. Peidone in G6. Quindi torre 1. Torre su colonna semiaperta. Caruana sta cercando di sviluppare gli alfieri. Yu gioca peidone G3. Caruana risponde con re B8. Mette il re al sicuro. Donna E3 per Yu. E Caruana appunto sviluppa l'alfiere in A6. Yu difende con B3 il pedone. Caruana allora ritira l'alfiere. Molto probabilmente vuole portarlo lungo a questa diagonale. Arriva pedone F4. Pedone H4. Caruana vuole anche mettere la torre in gioco. Quindi sta giocando molto bene. Yu decide di cambiare le donne. Segue pedone F6. Donna in E3. Caruana rifiuta di cambiare le donne. Gioca F6. E Yu per qualche motivo ritira indietro la donna. Quindi si rifiuta anche lui di cambiare le donne. Come vedete sta giocando in maniera strana. Sta giocando anche molto velocemente. 47 minuti contro 20 minuti di Caruana. Caruana ci sta pensando tanto alle mosse. Caruana cattura in G3. Yu riprende di pedone. Caruana gioca E5. Segue pedone per E5. Pedone per E5. Torre H1. Con torre H1 il bianco decide di cambiare le torri. Però Caruana rifiuta. Controattacca. Attacca la donna. La donna va in G5. Ora il problema in questa posizione per il bianco è che il re è troppo scoperto. E i due alfieri stanno per entrare e attaccare. Ci sono giusto due pedoni. Uno su casa chiara e uno su casa scura. Che possono supportare i due alfieri. Che combinati a donna e torre possono effettuare un attacco micidiale. Questo è proprio quello che è successo. Caruana qui inizia ad avere vantaggio. Decide di cambiare la torre in H1. E dopo torre per H1 arriva donna in D6. Ovviamente il nero sta meglio. È troppo difficile per il bianco cercare di attaccare. Perché i due alfieri sono dei mostri in questa posizione. Il cavallo invece del bianco è abbastanza debole. Arriva pedone G4. Donna in D3 scacco. Re B2. Alfieri D4. Ecco vedete che già c'è tensione. Qui il bianco deve difendere. Yu gioca a torre C1. Caruana spinge in A5. Quindi ha anche questo alfiere che può utilizzare. Ma come se non bastasse vuole aumentare l'attacco con i pedoni. Yu gioca a4. Segue donna in E4 per Caruana. Ora sta attaccando il pedone in G4. A quanto pare questo tra l'altro è un errore. Qui il bianco dovrebbe giocare C5. Ma ha una posizione disperata. C5 è una mossa folle tra l'altro. Yu invece gioca donna in F6. E Caruana viene addirittura con il re in C7. Caruana ha 2 minuti. Christopher Yu 38 minuti. Quindi questo ragazzo sembra essere molto nervoso. Perché muove molto velocemente. Caruana ha solo 2 minuti. Sta per scadere il tempo. Sta per finire appunto la partita. Arriva pedone G5. Però Yu sbaglia quando muove. E Caruana qui non lo perdona. Segue donna D3. Donna in E7 scacco. Re in B8. Yu dà ancora scacco. Re B7 scacco ancora. E Caruana fugge via con il re in A6. Non ci sono più scacchi. Yu allora alza il pedone in B4 sperando in un possibile B5 scacco. Ma ovviamente Caruana cattura il pedone in C4. Segue donna in E8. Caruana cattura il pedone in B4 con scacco. Qui posizione disperatissima. Questa è da abbandono. Re A2. Scacco con la donna. Re B2. Re in B7. Caruana difende l'alfiere. Yu dà scacco. Caruana viene con il re in B8. Arriva lo scacco. Re A8. E Yu cattura il pedone in G6. Si crea un pedone passato. Tuttavia qui inizia l'attacco da parte di Caruana. Alfiere in E6 coordinandosi con la donna. Yu qui alza la torre in C2. Buu non so che roba sia. Arriva a scacco. Ovviamente il cavallo è inchiodato. Non può catturare perché è inchiodato appunto dall'alfiere. Yu va in C1. Segue scacco con l'alfiere. Re D1. Scacco con l'altro alfiere. E in questa posizione poi abbandona quando c'è scacco matto in tre mosse. Dopo Re 1. Scacco. Cavallo B1. Scacco. Torre C1. Donna per scacco matto. Come vedete quella del bianco è una bruttissima partita. Caruana gioca al 92.9 di precisione. Yu 81.9. Aveva vantaggio però non è riuscito a concretizzarlo. E in pratica questo ragazzo rischia di aver già distrutto la sua carriera quando ha ancora soli 17 anni. Si sono espressi molti. Anche i giocatori più forti al mondo. Ancora non ho visto la reaction di Nakamura Carlsen. Ho visto Nepo. Nepo ha detto che secondo lui quando uno perde a scacchi ci rimane male. Perché comunque a livello emotivo non è semplice. Quindi secondo Nepo l'arbitro non dovrebbe avvicinarsi a toccare i concorrenti insomma i giocatori. L'arbitro si dovrebbe limitare di parlare a voce dicendo guarda stai sbagliando qui di applicare il regolamento a voce senza toccare il giocatore. Non so bene cosa sia successo poi dopo. So che comunque la decisione è stata presa. È stato espulso questo giocatore. È arrivata addirittura la polizia. Mamma mia spero bene per lui. Spero bene per lui. E è eccessivo tutto questo? Boh ditemelo nei commenti. Fatemi sapere cosa ne pensate. Grazie a tutti per la visione. Vi ricordo di mettere un piacere sul canale. Ciao. Alla prossima. Alla prossima.